Ciao a tutti amici, oggi prepariamo una mousse al cioccolato bianco con un retrogusto di limone, facile, veloce e senza uova. Siete pronti? Vediamo la ricetta. Per la mia mousse per 4-6 persone occorre 200 g di cioccolato bianco. Io uso questo delle Perle del Sole che è un cioccolato bianco al gusto di limone e lo trovate nel negozio online www.dreammeater.com. Poi occorre 50 g di zucchero a velo, 250 ml di panna e la scorza brattugiata del limone. Andiamo all'esecuzione. Ho messo il pentolino, il doppio pentolino per fare il bagnomaria. Adesso prendiamo il nostro cioccolato e andiamo a metterlo dentro questa bulla e lo facciamo sciogliere piano piano. Nel frattempo prendiamo la panna, lo mettiamo in un altro contenitore, insieme allo zucchero a velo e alla scorza grattugiata del limone. Inizio a montare la panna e deve essere semi montata, non montata tutta, se no la mousse non viene. Il cioccolato, vedete, si è sciolto per bene, è bello uniforme. Mettiamo adesso qualche cucchiaio di panna nel cioccolato intiepidito. Mischiamo per bene e adesso andiamo a versare il cioccolato dentro la panna. E andiamo a finire di mischiare per bene il tutto. Girate per bene, piano. Ho preso dei bicchierini, adesso andiamo a prendere un po' della nostra mousse e riempiamo i bicchierini. E poi le mettiamo in frigorifero per tre ore. Eccola qua, la mia mousse al cioccolato bianco al gusto limone è pronta. Vedete? Buonissima! È facile, veloce e ottima per ogni occasione. Mi raccomando, se la ricetta vi è piaciuta, un like, azionate la campanella e iscrivetevi al canale. Ci vediamo alla prossima! Iscriviti al canale!